Sarà vero? Fedez, il celebre rapper italiano, ha acceso nuovamente il gossip con la notizia di un presunto flirt con una misteriosa bionda. I rumors si sono intensificati dopo la pubblicazione di un video in cui Fedez e la ragazza si scambiano confidenze in atteggiamenti intimi. Ma come ha reagito a questa indiscrezione la sua ormai ex-moglie, Chiara Ferragni? Metti like ed iscriviti al canale per scoprire la reazione di Chiara. La coppia più social d'Italia, dopo un matrimonio da sogno e due splendidi bambini, sembra ormai aver scritto la parola fine sulla loro relazione. La notizia della separazione ha lasciato i fan increduli e addolorati, ma i rumors sui flirt di entrambi non si sono fatti attendere. L'identità della nuova fiamma di Fedez è ancora avvolta nel mistero. Dagli indizi trapelati sui social, sembrerebbe trattarsi di una giovane donna bionda, appartenente all'elite milanese. I due si conoscerebbero già da tempo grazie ad amicizie comuni e, stando alle indiscrezioni, tra loro sarebbe scoppiata una vera e propria passione. Come ha reagito Chiara Ferragni alla notizia del presunto flirt di Fedez? Secondo alcune fonti vicine all'influencer, la sua prima reazione sarebbe stata una risata di scherno. La Ferragni, infatti, si trovava a Los Angeles per lavoro quando ha preso la notizia. Sembra che l'imprenditrice digitale abbia poi commentato la vicenda con un pizzico di sarcasmo, definendo il presunto flirt di Fedez come una mera strategia per attirare l'attenzione. Nonostante la risata iniziale, la Ferragni non avrebbe preso con leggerezza la situazione. Secondo alcuni rumors, l'influencer avrebbe lanciato diverse frecciatine velenose all'ex marito sui social. In un post su Instagram, la Ferragni ha pubblicato una foto di una coppia di anziani mano nella mano durante un trekking, commentando con un eloquente life goals. Un chiaro riferimento alla stabilità e all'amore duraturo, elementi che sembrerebbero mancare nella sua relazione con Fedez. La vicenda del presunto flirt di Fedez e la reazione di Chiara Ferragni continua ad alimentare il gossip. La verità sui fatti rimane ancora da accertare, ma una cosa è certa, la loro storia è tutt'altro che conclusa. I fans si dividono tra chi spera in una riconciliazione e chi invece crede che la loro separazione sia definitiva. E voi, cosa ne pensate? Credete che Fedez e Chiara Ferragni torneranno insieme o che la loro storia sia davvero finita? Lasciate un commento qui sotto per condividere la vostra opinione.